Buongiorno, è stata convocata in procura perché è indagata, sì, andrò in procura come testimone per fare chiarezza su questa vicenda che mi vede partenesa, ricordo e preciso che la procura ha già detto che non c'entro niente, per favore non iniziamo con il solito fango, grazie. Sindaca, è ipotizzabile che venga rivisitato il progetto, è possibile che venga annullato lo stadio.